Continuano gli incontri nelle frazioni promossi dall'amministrazione comunale di Terra Nuova Bracciolini. A Terra Nuova Bracciolini continuano gli incontri con i cittadini delle frazioni del Comune. Ci sarà infatti l'incontro con i cittadini per illustrare il bilancio di previsione 2012, come è già stato fatto tra l'altro in tante altre frazioni. Sì, continuano appunto gli incontri pubblici dell'amministrazione per la presentazione del bilancio di previsione del piano delle opere pubbliche. Giovedì saremo nel circolo di Santa Maria, dove incontreremo i cittadini non solo di Santa Maria, ma anche della Badiola e della Treggiaia. Incontri che servono a mantenere quel rapporto che c'è tra l'amministrazione e la cittadinanza, a recepire contributi problematiche e quanto i cittadini credono debba essere giusto riportare. C'è mercoledì 20 anche un ulteriore incontro alla Penna che è mirato e specificato a discutere della nuova variante provinciale che bypasserà il centro abitato. Giovedì 21 alle 9 e un quarto alla Badiola e mercoledì 20 con l'amministrazione provinciale saremo alla Penna al circolo Arci.